Roberta Forniera, buonasera. Buonasera. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare in sostanza il sentiero delle parole. Per cui c'è un'attinenza, c'è un passaggio tra le varie parole, c'è un filo rosso. E Roberta Forniera ci racconterà che cosa succederà domenica 20 settembre a Lamorra. Siamo in provincia di Cuneo, siamo in una straordinaria posizione sulle Langhe, siamo nelle Langhe. Ebbene, domenica 20 settembre dalle 16 alle 18 ci sarà una camminata letteraria e Roberta Forniera ci porterà a spasso attraverso le parole. E quali parole sceglie Roberta Forniera per accompagnare il pubblico in questa passeggiata? Allora, le parole sono suggerite ovviamente dal Festival Profondo Umano e la parola chiave è errare in tutte le sue accezioni e significati. Per cui si parlerà dell'errare inteso come vagabondare, come girovagare, come volare con la mente, come sbagliare, ovviamente, e sul concetto di errore si cercherà di sviluppare e di approfondire quello che è cadere in errore in qualche modo o quello che è, per esempio, essere considerati degli errori o quello che è semplicemente ingannarsi. E quindi sarà una passeggiata, sarà un modo di perdersi. C'è una frase bellissima di Massimo Recalcati che dice Errare non vuol dire sbagliare, ma camminare per trovare la strada giusta. E a proposito di errare, mi fanno notare dalla regia che sono implacabili, Roberta Forniera è stata molto gentile, però mi hanno subito fermato con il segnale rosso perché non è domenica 20 settembre, ma è domenica 19 settembre. 19 settembre è il sentiero delle parole e quindi io sono proprio sprofondato nell'errore più banale e lei è stata troppo gentile, Roberta Forniera. Evviva perché non siamo perfetti e quindi non c'è veramente nessun problema. E quindi il camminare per trovare la strada. E allora sarà, spero, un'esperienza piacevole quella di fare questa passeggiata proprio nei dintorni della Morra, insieme anche a Gabriele Pugno che ci accompagnerà e che ci racconterà anche particolari dei luoghi. Durante questa passeggiata, come già gli anni scorsi era capitato, ci sono dei momenti in cui ci fermiamo e grazie a scritti, a poesie di autori più o meno conosciuti e cercheremo così di sviscerare un po' e di perderci in tutti i significati della parola errare. E la parola errare è una parola importante e Roberta Fornier ci porterà attraverso pagine letterarie, ma non solo, proprio tenendo conto del titolo di questo festival albese per entrare nella profondità dell'animo umano. A volte le parole sono necessarie e queste parole sono necessarie, quelle di Roberta Fornier, che condurrà il pubblico attraverso queste parole letterarie, ma sono parole soprattutto umane. Torno a utilizzare il titolo del festival, sono parole profondamente umane. Sì, assolutamente sì, e fra l'altro ho cercato di materiale un po' dovunque, quindi ovviamente ci saranno pagine di grandi autori, ma ci saranno anche riflessioni di persone magari conosciute, ma non conosciute a livello letterario. E quindi spero che sia una cosa piacevole e che sia un modo sereno per affrontare una parola che ci fa sempre un po' timore, ci mette un po' a disagio. Abbiamo questa ansia tutti, un po' di perfezione, questa paura di sbagliare e cercheremo, come dire, di perderci con il sorriso riflettendo sui nostri errori. E in queste passeggiate che sono cominciate tra l'altro alcune settimane fa, passeggiate tematiche con il Sentiero delle Stelle, poi avremo il 19 settembre il Sentiero delle Parole, quindi il 24 settembre il Sentiero della Terra. Ora, ecco, adesso andiamo a scoprire nel dettaglio per l'appunto il Sentiero delle Parole, con partenza alle ore 16, Errare e Umano, in collaborazione con la libreria Paesi Tuoi di Roberta Canevari e Profondo Umano Festival. La prenotazione è obbligatoria, infochiocciolalamoraturismo.it per la partecipazione. Ora, quali parole lei ci può far ascoltare, anticipare meglio, per la passeggiata che la vedrà come protagonista, lettrice? Allora, sono molto indecisa perché è molto difficile scegliere cosa dire. Vorrei leggere, a proposito del essere considerati un errore e non compiere un errore, vorrei leggere qualche brevissima poesia e qualche riflessione di Alda Merini. Prego. Amai teneramente dei dolcissimi amanti, senza che essi sapessero mai nulla. E su questi intessei tele di ragno e fui preda della mia stessa materia. In me l'anima c'era della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome e fui soltanto un'isterica. A proposito di essere considerati un errore, Alda Merini è stata considerata troppo spesso un errore. Fui soltanto un'isterica. Ecco perché hai scelto questo breve passo poetico. Questo breve passo perché mi sembrava che istintivamente quando pensiamo appunto all'errore, allo sbaglio, pensiamo sempre a qualcosa che compiamo, lo pensiamo sempre come un verbo attivo. E invece non possiamo dimenticare che ogni tanto siamo noi, come dire, considerati un errore. E questa era una cosa che mi interessava. Mi interessava andare a sviscerare un po' questo significato. Quanto conta per lei la poesia di Alda Merini? Non sto parlando solamente dal punto di vista letterario, ma vorrei ripercorrere proprio la profondità umana. È stata una scoperta che ovviamente ho fatto tantissimi anni fa e ci torno molto spesso. Ogni tanto apro uno dei suoi libri così a caso perché è una compagna di vita in qualche modo la Merini. Credo per tutti noi, per tutti coloro che quantomeno hanno avuto l'occasione di poter leggere i suoi versi. Io ricordo, e mi scusi Roberta Fornir, se partecipo a questa cosa con un aneddoto personale. Alda Merini l'abbiamo ospitata diverse volte qui nel posto delle parole. Ma ricordo una sera che lei mi telefonò e non avevamo alcun appuntamento, se non poco più in là perché aveva appena pubblicato un libro di poesie. E ricordo che quella sera, verso le sei e mezzo, sette, lei mi telefonò, parlando di più e del meno, e restammo al telefono a chiacchierare, anzi, più che tutto io ad ascoltare le sue parole, che erano parole di una persona semplice, come se fosse, che ne so, la mia vicina di casa, con i problemi dell'acqua, i problemi di una cosa, nessuno la andava a trovare, lei si sentiva sola, aveva male di qua e male di là, ecco, una telefonata profondamente umana. Ed è stata una, la ricordo con molto piacere perché, quando io penso alle telefonate più lunghe che ho fatto, che ho ricevuto nella mia vita, non posso non pensare a quella telefonata, credo che sia stata forse quasi di tre quarti d'ora. Credo che il tempo ha passato con lei, ma non perché l'abbia passato con Alda Merini, è stato un tempo di straordinario ascolto, e mi piace condividerla in questo momento quando lei parlava dell'umanità e dell'errore che lei conteneva in sé, no? Che bello avere un errore e contenerlo, espanderlo fino a farlo diventare poesia, cosa ne pensa? Non dico cosa ne penso, dico quello che ne pensa Alda Merini. Alda Merini, lei a un certo punto scrive Per tutti io sono pazza e ho intorno un tale vuoto di solitudine. Il delirio dà alla luce figure, visioni, realtà sommerse e si deve imparare a entrare e uscire dal delirio, ma non tutti lo sanno imparare. La follia è un capitale enorme, estremamente prolifico, però lo può amministrare solo un poeta. Il poeta, con gli occhi rarefatti della follia, sta guardando il destino anche per gli altri. Sta guardando il destino anche per gli altri ed è come una sentinella e a questa sentinella noi potremmo porre la domanda, quella famosa domanda della Bibbia, sentinella, a che punto è la notte? E quindi Roberta Fornier sarà un incontro con la poesia, con la letteratura. Che rapporto ha lei? Al di là di quest'incontro, alla morra, questa passeggiata, questi sentieri tra le parole, che rapporto ha lei con la parola? Beh, ci lavoro con la parola ovviamente. Non per niente gliel'ho chiesto. Ed è un rapporto speciale perché il lavoro dell'attore è quello di dar voce alle parole degli altri, più che alle proprie. E questa è la più grande ricchezza, perché c'è la possibilità di continuare a studiare, a leggere. Ogni volta c'è l'occasione per tuffarsi magari in un argomento diverso e scoprire nuovi autori è un lavoro che arricchisce il mondo strepitoso e quindi è una grossa fortuna poter fare questo lavoro. E ogni volta che ho partecipato a queste passeggiate, che è già qualche anno che c'è questo appuntamento langarolo letterario, ogni volta è stata l'occasione per scoprire qualcosa, per scoprire dei testi, oppure per andare ad approfondire magari autori già conosciuti e quindi ogni volta è la chance di creare qualcosa di diverso e quindi di offrire a chi viene a passeggiare con noi delle opportunità di lettura, di riflessione e perché no anche di qualche sorriso. A voglia, è necessario, anche attraverso il sorriso si entra nella profondità umana, forse proprio attraverso il sorriso e questa la cultura ebraica ci insegna in un poco. Info, chiocciola, la morraturismo.it è l'indirizzo a cui far arrivare la prenotazione per partecipare il 19 settembre dalle ore 16 con partenza dall'ufficio turistico della Morra per incominciare, insieme con l'attrice Roberta Fornier, il sentiero delle parole. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah beh, in questi giorni io mi occupo solo di errori, per forza di cose. Eh, certamente. C'è un libro dal quale fra l'altro credo che leggerò più di un brano perché è veramente un libro molto molto piacevole. E qual è? Che si intitola L'arte di sbagliare alla grande. L'autore è Enrico Galiano che è un professore. Professore. Professore occupato proprio in questi giorni a Pordenone Legge e quindi Enrico Galiano pubblicato da Garzanti, L'arte di sbagliare alla grande. È un libro che noi abbiamo raccontato. Molto 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 piacevole, davvero molto piacevole e quindi sicuramente tante pagine saranno citate durante questa passeggiata dal libro di Galiano. Ah, la trattengo ancora per qualche istante. Nel momento in cui lei, in questo momento, lei si trova forse a casa, forse chissà dove, a portata di mano a un libro. No, qualsiasi libro. Allunghi la mano, lo prenda, lo apre e ci legga l'inizio. Ah, qualsiasi panna gennazio. Vediamo quale libro incontriamo nella casualità del caso, come direbbero gli scrittori sudamericani a casa di Roberta Forniera, nella quale siamo arrivati in maniera inusitata e anche con molto ritardo dovuto ai festival continuamente presenti, ovviamente, che ci sballano gli orari. Che cosa ha trovato, Roberta? Allora, questo libro, che è un libro che io ho sempre sul comodino, si intitola La ruota delle lune, meditazioni pelle rossa per molte lune. I frutti di ogni cultura si trovano nelle fiabe che intessono, offrendo ispirazione senza cercare di invogliare. La storia che parla di coraggio ci invita a essere prodi. La storia che parla di spreco mostra all'incauto come risparmiare. La storia che parla di conseguenze reca avvertimenti al saggio e la storia che ci pone domande ci spinge a trovare soluzioni. La storia che parla di vero amore chiede ai nostri cuori di aprirsi. La storia che parla di vittorie rianima la nostra fierezza. Quando queste verità sono filate con la più grande cura possibile, le lezioni che raccogliamo possono essere le risposte alle nostre preghiere. Coloro che testano le storie sono ispirazioni per l'umanità, mentre mietono i frutti della saggezza e offrono cibo per la mette. Io questo libro, forse lei, lo porterei nella corso della passeggiata, chissà. Difatti. Difatti questo libro mi accompagnerà. Questo libro l'accompagnerà perché entra proprio nella parola errore. Grazie. Grazie davvero Roberta Fornier del tempo che ci ha dedicato e buona passeggiata nel sentiero delle parole. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.